Il paradosso è che è finito l'anno e gli studenti universitari ancora sono alle prese con i soliti problemi legati alle bolse di studio e con le difficoltà che tutto questo comporta per la vita di un universitario. Le tasche, insomma, sono ancora vuote, nonostante gli scorrimenti di graduatoria siano avvenuti. La situazione reale è che molti studenti attendono ancora l'erogazione della prima rata. L'UDU, l'Unione degli Universitari, ci va giù duro pesante ancora una volta, denunciando una situazione che ritengono gravissima e inaccettabile e che soprattutto è reiterata. Ritardi che ovviamente vanno a causare tantissimi problemi a chi deve affrontare la quotidianità universitaria che è sempre più costosa. La graduatoria è uscita fino aprile, anticipato lo scorrimento definitivo che secondo il bando è prevista a giugno, riconoscendo a tutti gli studenti il beneficio della borsa di studio. Pur essendo beneficiali su carta però, gli studenti non hanno ricevuto di fatto il denaro della borsa di studio che gli spetta. Moltissime studentesse e moltissimi studenti attendono ancora l'erogazione della prima rata della borsa di studio. Nonostante gli scorrimenti completi di graduatoria avvenuti il mese scorso, il 29 aprile, moltissime studentesse e moltissimi studenti attendono ancora l'erogazione della prima rata della borsa di studio, rendendo quindi di fatto con questo scorrimento beneficiari solo su carta quelle studentesse e quegli studenti aventi diritto, ma che poi materialmente non hanno ricevuto il corrispettivo che appunto spettava loro. Abbiamo ribadito più volte come questi ritardi sono inaccettabili per la comunità studentesca e come Unione degli Universitari ci siamo messi in prima linea per dare voce e dare spazio alle studentesse e gli studenti che affrontano questo disagio, perché una borsa di studio che arriva in ritardo significa non avere il giusto sostentamento economico per affrontare la vita universitaria e le diverse spese che la comunità studentesca deve affrontare durante tutto l'anno accademico. Non accetto il primo appello dell'Unione degli Universitari queste, ma ora la protesta si fa più pesante e gli studenti chiedono alle autorità competenti di sbloccare al più presto il pagamento delle borse di studio. Il concetto è sempre lo stesso, il diritto allo studio va tutelato e questo modo di fare crea una distanza enorme tra gli studenti e le istituzioni, anche perché per l'Unione questo va a compromettere la formazione di qualità.